Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi porto uno dei giochi che attendevo in assoluto di più nella sua versione italiana. Si parla di Dungeonology, la spedizione, gioco della Ludus Magnus Studio, che sono gli stessi che hanno fatto Nova Etas. Infatti il gioco è ambientato nella stessa ambientazione di Nova Etas. Edizione italiana a cura della Pendragon, che io ringrazio di cuore per avermi offerto questa copia per la recensione, anche perché era uno dei giochi che in assoluto aspettavo più di tutti, quindi grazie davvero di cuore alla Pendragon, è un onore e un piacere ovviamente collaborare con voi. Grazie immensamente. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Dungeonology è un gioco da 2 a 4 giocatori, della durata complessiva di una novantina di minuti, dai 14 anni in su. Secondo me l'età si può anche tranquillamente abbassare i 2 o 3 anni, perché forse è vero c'ha un po' delle meccaniche da capire, non è complesso come gioco, né complicato né complesso, c'ha delle meccaniche un po' particolari da capire, però per il tema trattato, molto proprio scansonatorio e molto comico, ricorda da vicino, anzi da vicinissimo, un gioco alla Fable, o anche perché no, rimanda anche un pochino ai ricordi di Harry Potter, ed è un gioco che ci vede nei panni di studenti che devono andare, studenti ovviamente universitari, in questa università di Rocca Civetta, totalmente il gioco ambientato in Italia, anche personaggi hanno i nomi italiani, ma dopo tutto come nei giochi della Ludus Magno Studio, come ad esempio Nova Etas, con cui appunto condivide l'ambientazione, è sempre ambientato in Italia. Però questa differenza di Nova Etas è molto più tranquillo, ricorda Fable, e noi siamo chiamati a vestire i panni di studenti che devono entrare nel dungeon sotto Rocca Civetta, catalogare e studiare le razze che troveranno al suo interno, per poi dopo andare dai professori a discutere la tesi. Non è per niente un gioco cooperativo, qui ognuno segue la sua strada, deve portare la propria tesi e magari, perché no, provare anche a diventare il rettore di Rocca Civetta. Quindi ognuno gioca per sé, ognuno giocherà a prendere i propri punti, studiando le razze di nascosto, non è un dungeon crawler, non è un gioco di combattimento, dovete studiare, non andare a combattere i nemici, però sarà possibile anche andare a rubare informazioni preziose agli altri studenti, i giocatori che saranno con voi, per poi, quando andare a discutere la tesi, essere il giocatore che ha portato alla miglior tesi. Quindi, alla fin fine, a conti fatti, quello che ha guadagnato più punti. Alla fine del gioco vincerà il giocatore che avrà guadagnato più punti, e anche se il primo giocatore dovesse discutere la tesi, non dovrà dire quanti punti ha guadagnato. Dovrà soltanto dire, ok, io ce l'ho fatta, ovviamente deve essere anche onorevole e giusto, senza barare, far presente agli altri giocatori che appena ha discusso la tesi, ha superato il punteggio, non dice di quanto, e poi la partita continua perché gli altri giocatori potranno andare avanti. Quindi, un po' come Nemesis, chi vince ha vinto la partita e fuori dai giochi può andare a fare altro, però nel frattempo la partita va avanti perché bisogna vedere, poi, se quegli altri giocatori, quando arriveranno come lui a discutere la tesi, se avranno guadagnato più o meno punti rispetto a lui, perché magari lui l'ha discussa per primo, però i giocatori che arrivano dopo, magari il secondo che arriva, l'ha discussa meglio della sua, ha fatto più punti e quindi lui magari era meglio, prima di andare a discutere, di fare qualche punticino in più. È una corsa al punteggio, ma è fatto veramente molto bene. Vi faccio vedere un po' di cosa tratta, ma prima di tutto, unboxing. Confezione del gioco, molto bellina, colorata digitalmente, mi piace veramente molto e si vedono appunto i personaggi che sono quelli principali, molto diversificati l'uno dall'altro, perché poi ognuno di loro ha le proprie abilità, c'è quello che magari è più forte a combattere, per quanto non è un gioco di combattimento, quindi più che combattere, cercare di andare a minare le azioni degli altri studenti, degli altri giocatori, poi c'è il classico ladro, lo studioso, un po' di magia e cose strane, l'archeologa, quindi è veramente bellino e la confezione è bella grande, più che altra e piena zeppa di contenuti. Apriamo. Il regolamento di gioco, fatto a striscia larga, anche qui veramente ci sono, oddio, una trentina di pagine, però guardatela, c'è il disegno, ne porta via, no, non metà, tre quarti, e le regole sono veramente facilissime, tradotto bene, ci ho trovato un paio di errori grammaticali, ma anche qui, cavolate ragazzi, si trovano anche nei romanzi di AAA, quindi voglio dire, gli errori non li calcolate nemmeno, ci sono e ci saranno sempre ovunque, in qualsiasi parte del mondo, e è bello perché praticamente ci sono le lettere di riferimento con le figure accanto, quindi non è di facile comprensione, di più. Token dei punteggi, per le ruote che possono essere usate per fare le prove di furtività, poi ci sono le scale per andare a vari livelli del dungeon, i token muro e tutti gli altri token di cui c'è bisogno per giocare, che non sono tantissimi, però insomma, ce n'è un pochino. Plancia del bonfire, dove ci dovrete andare a mettere tutti gli studenti che vi daranno una mano, perché voi praticamente siete quelli che devono dare all'esame, però potete prendere anche degli studenti, che le pedine sono molto belline, ve le faccio vedere, e metterle pescandole da un sacchetto, che è l'università di Rocca Civetta, mettele qua giù intorno al bonfire, e ovviamente potrete andarle a prendere, e vi daranno dei bonus. E qui ci sarà la scheda col fattore rischio, che vi farò vedere più avanti. Vediamo, ci sono varie schede, questo qui è un repilogativo, tra l'altro bellino, l'hanno messo dentro una busta, per conservarlo, che è un repilogativo praticamente di tutti gli effetti che trovate nelle zone, vedete ci sono i simbolini accanto, quindi non vi potete sbagliare, e soprattutto i simboli che trovate sulle carte, che sono questi qui accanto. Di solito quelle verdi vi fanno guadagnare qualcosa, questo giallo vi fa pescare dal sacchettino, quello rosso è qualcosa che andate a perdere, più i vari livelli di zona. Plancette di ciascun giocatore, che ne identificano il colore in cima, perché a volte alcuni effetti vi diranno, devi andare a fare quest'azione verso il giocatore rosso, e voi sapete di essere il giocatore rosso, qua sotto ci dovete mettere le ruote che vi ho fatto vedere precedentemente, qui ci dovete mettere i cubetti che trovate in giro per il dungeon, per i vostri studi, e qui la carta del personaggio. Il sacchettino dove dentro mettere tutti quanti gli studenti che sono nel gioco, che poi sono questi qui nella bustina, che vedete sono nuovi arrivati, più quelli rossi, sono del culto Omega, che è una setta all'interno della scuola, che farà di tutto per mettervi i bastoni tra le ruote. Di solito quando esce uno di questi qui rossi, vuol dire che, insomma, vi è andata un po' di sfiga, e li dovete mettere qua dentro. Tile di gioco, questa qui è la zona di partenza, ce ne sono veramente tantissime, e poi qui ci sono le scanalature, perché sono i cubetti dei colori che ci dovete andare a mettere, quindi in questa zona ci sono questi cubetti, in questa zona ci sono quest'altri, più gli effetti della zona elencati qua su in cima, quindi quando arrivate in questa zona, l'effetto che subirete è sempre questo qua su in cima. Cubettini colorati, che sono quelli che dovete mettere da una parte, quindi fate una riserva comune e dovete andare a piazzare nelle aree di gioco. Mazzi di carte, che sono per la maggior parte trucchetti, carte ricerca, e un altro bel mazzone qui accanto, che sono carte randomiche. Quando a volte il gioco vi dice pesca una carta randomica per vedere in che direzione vai, una cosa del genere, ci sono appunto i mazzi nel mezzo randomici da cui andare a pescare. Le miniature sono qualcosa di spettacolare, e questo qui è un boss che potete trovare in due forme all'interno del dungeon. Potete trovarlo furioso, che penserà soltanto, questo vi è uno dei boss principali, a picchiarvi, a farvi del male, o lo potete trovare completamente ubriaco, che invece una volta magari vi darà una botta, invece un'altra volta vi si allererà e vi seguirà. Questa è una cosa bellina, e le miniature sono veramente a dei livelli assurdi, e giudicate voi il dettaglio di queste miniature, ragazzi, è veramente mostruoso, anche perché hanno fatto un po' come Nemesis. Ce ne sono pochi all'interno, quindi quelle che ci sono hanno mirato proprio a farle perfette, e quello lì è un personaggio più mirato al combattimento, a rubarvi insomma delle cose, insomma, perché le regole che c'ha sono per picchiare altri giocatori, e questa è una ladra, che è qualcosa di spettacolare, ragazzi, le miniature sono bellissime. Questa che vedete è la scheda personaggio, su cui all'inizio dovete mettere una ruota sul livello 0, che è il livello di studio, il bonus che girandola vi darà, e qui dovete mettere la carta personaggio, che vedete ne abbiamo scelto Sofia, che è una specie di ladra, cose del genere, ha un'abilità speciale, e sotto, vedete, ha delle caratteristiche. Partendo da sinistra, con quelle elencate, ve le elenco una a una, poi per andare verso destra, con i vari valori che ci sono sopra, il valore di matricole, quindi questi personaggi che si può portare dietro, lei massimo 2, la mano di carte, che può avere in mano, la velocità, quindi di quante caselle si muove, l'intelligenza, che è il numero di cubi in formazione che può prendere in una zona nello stesso turno, il valore di stamina, che è un valore che quando raggiunto il personaggio per forza si deve fermare e si deve riposare, e la combo conoscenza in fondo. Quando praticamente avrà una combo conoscenza di un cubetto blu e un cubetto viola, ad esempio un cubetto viola di questi qua, o rosa, e un cubetto viola di questi qua, guadagnerà la combo conoscenza che gli darà la possibilità di andare a vedere il punteggio totale della tesi che deve raggiungere segretamente, senza farlo vedere agli altri giocatori, e lo metterà giù, così saprà già di partenza prima di andare a discutere la tesi di quanti punti avrà bisogno. Questa è la carta panico che vedete qua sotto, nera, sopra c'è la carta allerta, poi c'è il bonfire qui accanto dove dovrete andare a mettere tutte quante le matricole che vi seguiranno e che potete prendere nel corso della missione, della partita, e qui accanto c'è la tesi, quindi la carta che va messa coperta, ora tanto ve lo faccio vedere, ed è il punteggio che dovrete eguagliare o superare per poter discutere la tesi. Quindi il giocatore che arriva a fare 30 punti, ovviamente con i bonus e malos che ci sono scritti qua sotto, ai vari dadi studio, vuol dire che avrà discusso la tesi, avrà fatto abbastanza punti e per lui la partita sarà finita. Non vuol dire che ha vinto, però vuol dire che comunque è riuscito a discutere la tesi. Questa è la carta panico che ogni volta che pescate una matricola rossa la dovete andare a mettere qua sotto e quando arriva in fondo praticamente la partita avvolge al peggio e sta quasi per finire, dovete fare il rush finale. E qui c'è scritto il setup per una partita facile, ovviamente ci sono anche medie, difficili e di varie difficoltà, in questo setup qui praticamente ci dice quante matricole devono andare dentro il sacchetto, quindi 5 matricole normali e una matricola rossa. Poi vedete, ogni volta che va avanti la zona panico dovete mettere tot matricole nuove dentro il sacchetto e dovete mettercene però anche totte rosse dentro il sacchetto. Queste carte qua su sono le carte specializzandi, il mazzo delle carte specializzandi, carte sfiga che di solito le carte sfiga le potete guadagnare in vari modi ma soprattutto quando anche siete troppo stanche e quindi dovete saltare il turno e il mazzo randomizzazione. Quando il gioco vi chiederà randomizza qualcosa, tanto lo leggerete sempre sulle carte, vi dà sempre in alto un colore e da una parte vi dà una freccia. In questo caso qui potrebbe essere una mossa che vi forza a muovervi verso sinistra e vi fa vedere anche che uscita dovete prendere se possibile sul tile di gioco. Se non fosse possibile questa uscita ovviamente si va girando in senso orario quindi si prende quella dopo successiva libera. Scheda riepilogativa della sequenza del turno e tutti quanti i simboli che trovate sulle varie carte quindi questa qui tra l'altro è anche bellina è già confezionata almeno non si rompe non si graffia e ricordatevi prima cosa importante col setup iniziale che deve essere dentro la bustina ricordatevi che dovete anche andare a mettere tutti quanti gli NPC tirandoli fuori o per meglio dire le matricole e metterle qui accanto al bonfire quindi le matricole partiranno sempre da questa freccia e andando in senso orario dovete andare a disporre tutti qui intorno. Regola vuole che quando ne dovete pescare di nuovi dal sacchettino ne dovete pescare fino al valore ovviamente elencato su una carta che vi potrebbe dare un obiettivo e ogni volta che ne tirerete fuori dovrete sempre andare a mettere qua giù così a girare. questi qui intorno al bonfire stanno qui accanto e possono essere presi ricordatevi che ne potete portare tanti dietro quanto è il valore che vi ho fatto vedere sulla scheda del personaggio di matricola che può avere. Quando ne capita uno rosso pescato non lo dovete mettere qui quello rosso pescato lo dovete andare a mettere sul livello più alto della carta panico e dovete sempre leggere la riga su cui è stato posizionato quindi se c'è un più uno vuol dire che sarà un più uno di difficoltà alle prove che vi faccio vedere nei tile e dovete sempre prendere la riga quindi nel nuovo sacchetto dovete andarcene a mettere tre nuovi nel sacchetto verde normali più uno rosso quindi non ce ne sarà più uno soltanto già posizionato sulla carta panico ma altri che potrebbero entrare in campo quando questa carta sarà fino in fondo piena si dovrà rivelare la carta panico questa nera che c'è qua sotto le carte panico che potrebbero uscire sono tipo queste qua e ce ne sono tre vedete oscurità sono cose brutte che capitano quando ci sono troppe matricole omega all'interno appunto sopra la carta panico e quindi va rivelata quella che c'è sotto e sono cose brutte quindi cercate di non arrivarci e muovervi il più velocemente possibile questa è la zona di partenza vedete tutti quanti gli studenti partano da qui e anche quando devono fare un'azione riposo l'azione riposo la fai quando prendi token stanchezza arrivando fino al tuo livello di stamina quindi quando ci arrivi o lo superi continua a fare il tuo turno senza problemi però ovviamente se all'inizio del tuo turno successivo hai tutta quanta la stamina occupata dei token stanchezza dovrai per forza essere riportato in questa zona qui che è la zona di partenza e andarti a riposare riposandoti avrai la possibilità di prendere matricole dal bonfire avrai la possibilità di pescare perché questo qui è il mazzo generale delle carte trucchetto ed ogni giocatore può averne una mano per quanto ovviamente c'è sito sulla scheda quindi la ladra ne può tenere 5 avrai la possibilità di scartare queste carte qua giù e ripescarne ovviamente quante ne vuole fino ad averne in mano il massimo consentito appunto dalla sua classe quando giocate delle carte ora non lo mescolate ve ne faccio vedere un pochino comunque quando andate a giocare delle carte trucchetto hanno sempre un bonus al centro che è il bonus che vi serve per la prova studio che vi faccio vedere e dovete scegliere sempre quale cosa usare se usate il bonus al centro usate il bonus al centro se usate l'abilità scritta sul trucchetto dovete usare soltanto la striscia dell'abilità che vi faccio vedere o se no potete utilizzare le cose primarie o secondarie quelle in fondo che sono le varianti alternative ricordatevi soltanto che il fulmine vuol dire che è una cosa che immediata la potete usare subito quindi questa carta può essere giocata subito se c'è il simbolo dell'azione vuol dire che vi prende tutta quanta la vostra azione perché se no potete giocare tante carte in mano quante ne avete non c'è alcun limite e i bonus scritti qua su in cima di solito il giallo vi ricordate il giallo voleva dire che peschi uno o due matricole dal sacchetto e le metti intorno al bonfire e che prendi un più 4 a una prova di studio oppure potresti dare più 4 a una difficoltà di una zona quando invece c'è descritta un'abilità potete usare anche l'abilità che c'è scritta quando c'è una barra vuol dire che o usate uno ovviamente o usate l'altro quando invece c'è un fulmine rosso vuol dire che questa è una carta reazione questa la potete giocare anche fuori dal vostro turno anche nel turno di un altro giocatore quando questo gioca una carta è prima che se ne applichino l'effetto ora ciascun personaggio ha un valore di movimento la ladra ad esempio ha un valore di 4 quindi si può muovere di 4 casella andando ad esplorare vedete che ogni casella ha delle entrate e delle uscite almeno che che queste non vengano chiuse da regole particolari perché ad esempio ci potrebbe essere una regola che vi dice qui c'è una scala quindi questa zona e lo scegliete voi è collegata a un livello 2 del dungeon vedete che dietro ci sono i vari livelli 1 2 3 quindi se questa zona è collegata con il livello 2 tramite questa scala non può essere collegata anche tramite questa parte e quindi da qui si scenderà al livello 2 però ricordatevi che questa zona qui e tutto il resto sono chiuse quelle connesse ovviamente con il livello 2 ci si potrà accedere solamente tramite una scala le schede del dungeon sono divise fra livello del terreno livello 1 livello 2 del dungeon quindi il vero e proprio dungeon sotto terra e la parte finale più difficile dove si annida proprio il clan o anche il boss tra l'altro ogni zona è bellina perché sul manuale viene descritta e c'è un sacco di lore in questo gioco quindi magari quando tirate fuori un tile andate a leggere anche sul manuale cosa vi dice comunque per posizionare un nuovo tile di gioco ad esempio lei il primo movimento che fa potrebbe muoversi nelle varie direzioni perché vi ricordate bisogna andare ad esplorare per studiare appunto queste razze il primo movimento che potrebbe fare le potrebbe dire ok io mi muovo qui muovendosi qui si va dal mazzo livello 1 perché non ci sono scale siamo sempre a livello 1 e si va a pescare la prima in alto e si gira la può posizionare come vuole come vuole basta che ovviamente le zone vadano connesse come potete vedere però non per forza la può collegare così perché nel caso ce ne fosse già un'altra precedentemente collegata qua su in cima così perché vedete questa scena solo una di attacchi non è che le dovete mettere per forza ortogonali le potete mettere anche così la seconda potrebbe andarla a posizionare così ad esempio però ricordatevi che la terza che dovrà essere posizionata qua giù sotto deve avere un attacco sia qui che qui perché sennò non potrebbe tornare se qui non ha attacco e qui non ha attacco vuol dire che in quella zona non ci potete andare a collegare niente e dovete andarne a pescare fino a che non trovate una zona consona che riesca a collegarsi ovunque comunque muovendosi magari le dice ok mi muovo qua giù entrando in una zona vedete c'è una tendina la tendina vuol dire che io posso fare un'azione di riposo in questa zona senza dover tornare alla zona di partenza in più non ve li sto a descrivere tanto sulle carte ho scritto tutto ci sono tutti i bonus o malus della zona quindi vedete qua su in cima ci sono dei bonus o dei malus quando entrate in una zona dovete sempre applicarli ovviamente poi ciascuna zona ha dei cubetti colorati che in questo caso sono verde e rosso e verde e blu verde e rosso e verde e blu ora lei che qui può fare varie azioni nel suo turno che sono molto diversificate però l'azione principale che si può provare o a giocare carte dal mazzo dei trucchetti oppure può provare a fare l'azione di studio oppure può provare a fare un'azione in cui se c'è un altro giocatore adiacente un altro personaggio può provare a rubare cubetti studio appunto da quel lato giocatore o magari a giocare delle carte facendoseli passare perché magari riesce a farsi l'amico ci sono ovviamente tante regole particolari e quindi le azioni andate a vederle direttamente sul manuale o come vi ho fatto vedere prima sulla scheda repilogativa comunque quando si fa un'azione di studio bisogna sempre superare il grado di rischio della zona perché vedete il grado di rischio della zona è 4 ora come si supera quel grado di rischio quel grado di rischio può essere superato giocando appunto avendo abilità del personaggio sulla propria plancia che magari vi danno dei bonus o dei malus o giocando le carte che vi ho fatto vedere precedentemente se ad esempio il giocatore avesse in mano delle carte che può giocare istantanee vedete il valore che c'è al centro è un valore che potete usare per aggiungere appunto e superare la prova perché lei potrebbe dire ok la prova è di 4 io gioco questa carta che mi dà 5 e l'ho già superato perché sono a 1 e più di 4 quindi ok però occhio perché gli altri giocatori vi possono giocare carte contro per alzarvi la difficoltà quindi magari voi giocate un 5 sono a posto così però un altro giocatore vi usa una carta contro ovunque sia nel campo che ve la alza di 1 quindi ve la alza di 2 quindi diventa 6 e il 5 di lei non basta più quindi dovrà andare a pescare un'altra carta e buttarci un'altra sopra fino a che non riuscirà a superare la prova quindi se ci riesce bene se invece la fallisce ovviamente prende una carta sfiga le carte sfiga sono queste qua giù che vi ho fatto vedere precedentemente la prende non la legge e se la mette accanto alla plancia all'inizio del suo turno successivo la rivela e guarda cosa c'è scritto sotto se la prova è superata lei o comunque lui il giocatore può prendere tanti cubetti quanti sono quelli scritti sulla sua scheda e lei nel suo caso poteva prendere 2 cubetti tanto ora vi sposto direttamente la scheda lei poteva prendere che questo valore qui sulla sua plancia 2 cubetti quindi lei potrebbe dire ok prendo il verde e il rosso li prendo tutte e due nel caso una regola vi dica di posare un cubetto dalla vostra scheda potete posare un cubetto anche in una zona che non è dello stesso colore quindi potete mettere sempre partendo da sinistra a destra se dovete posare un cubetto blu potete anche metterlo sul verde tranquillamente quello non è un problema quindi ora lei va a prendere la sua scheda posiziona i due cubetti che ha preso partendo dal basso verso l'alto quindi mette il rosso qui e il verde lo mette qua giù sempre dal basso verso l'alto quando arriva a fare la wombo combo che vedete qui può direttamente girare la carta dalla plancia qua giù gira la carta e guarda quanto è il valore della tesi e la rimette segreta ricordatevi che questi bonus andranno applicati quindi vi darà più due rossi più un giallo ma meno un blu ad esempio la tesi finale quindi il giocatore già lo sa e gli altri giocatori non lo devono sapere vi vengono incontro le matricole che avete le potete usare per varie abilità perché magari un'abilità vi dice sacrifica due matricole però prendi questo bonus oppure vi potrebbe dire invece di subire un punto stanchezza uccidi o comunque sacrifica una matricola e non subisci il punto stanchezza le stelle che ci sono a questi valori sono divisi fra stelle dorate quindi d'oro e stelle d'argento quell'altra con delle varie righe non le guardate perché prendetele semplicemente come argento o oro perché sono regole che vengono inserite in varie espansioni non nel gioco di base comunque anche questa ruota si gira piano piano andrà avanti come vedete e questa ruota girando vi darà un bonus ed è il bonus sempre che dovete applicare alle carte per le vostre ricerche per discutere la tesi per avere la possibilità di discutere la tesi dovete prendere almeno due stelle dorate quindi dovete avere tanti cubetti che vadano qua su fino a prendere quella dorata o nel caso quello rosa o nel caso quello giallo ovviamente rose e gialli sono quelli più difficili da trovare sul campo di battaglia e nell'esplorazione del dungeon quando arriverete ad averne due gialli quindi due dorati potrete discutere la tesi la tesi si va a discutere prendendo appunto la carta qua giù che avete pescato casualmente all'inizio che è questa qui e dovete andare a superare questo punteggio prendendo ovviamente tutti i bonus che avete guadagnato e soprattutto facendo una somma di tutti i cubetti che vi siete portati dietro perché poi anche i cubetti stessi vedete sotto hanno un valore quindi vuol dire più 3 alla tesi più 2 alla tesi più 4 alla tesi più 4 più 8 i valori che ci sono sotto li dovete sommare tutti insieme ovviamente conta soltanto quello più alto non è che li dovete contare tutti più 3 più 6 no nel caso solo quello più alto il più 6 e vedete se siete arrivati al punteggio almeno per dare la valutazione finale discutere la vostra tesi voi siete fuori dalla partita non vuol dire che l'abbiate vinta però comunque siete fuori per fare azioni che vadano a minare un altro giocatore ovviamente dovete essere sulla stessa casella quando siete stanchi dovete fare per forza di cose un riposo qui lo potete fare volutamente in un'azione di campeggio con la tenda se no dovete tornare per forza nella zona di partenza e poi ovviamente anche le altre zone del dungeon lo vedete le dovete andare a piazzare con il numero che c'è qua sopra crescente ricordatevi soltanto che per collegare una zona 1 a una zona 2 ci deve essere sempre una scala quindi questa zona potrebbe essere collegata ad esempio a quest'altra così qua giù visto che non porta da nessuna parte ci andrete a posizionare un muro così e qua giù visto che non può collegare perché la collega soltanto la scala ci andate a mettere un altro muro anche qui ci andate a mettere tutti quanti i cubetti prendete il malus della zona che ci è segnato sopra e questa è sempre la difficoltà della prova all'inizio sceglierete il boss che dovrete affrontare nelle sue due versioni scelgano i giocatori tanto una vale l'altra non è che uno è più forte uno è più debole cioè Lytus versione ubriaco oppure Lytus versione attaccabrighe che è questo boss qua giù che secondo alcune regole o soprattutto quando fallirete un'azione di ricerca o cose particolari potrà entrare in gioco muoversi entrare nella vostra casella e saccagnarvi di botte e di solito quando vi picchia o perdete cubetti o prendete carte sfiga o se no direttamente prendete token di stanchezza che vi fanno ritornare all'accampamento ora in questa zona vedete è piena zeppa di cubetti ve l'ho messa qui ma potrebbe essere molto più lontana sul campo di battaglia e prima di tornare in quella zona campo a cavallo regola finale vuole che anche le schede dei personaggi hanno double face questa è la faccia del personaggio che dovete usare all'inizio quando qualcuno vi supera in cubetti ricordatevi che dovete sempre tenere sotto l'ontrollo le alte planche dei giocatori perché quando qualcuno vi supera nello studio voi la dovete girare su quest'altro lato perché il personaggio diventa arrabbiato diventa molto più competitivo gli cambiano anche le caratteristiche e farà qualsiasi cosa per avere più punti quindi già quando sulla plancia di qualcuno è più avanti nella ricerca rispetto a voi tutti gli altri giocatori che sono di conseguenza più indietro devono girare la carta su quest'altro lato quando magari Sofia riuscirà invece ad avere più cubetti di tutti gli altri giocatori la rigira da questo lato e sono tutti gli altri giocatori a girarla invece dalla parte incavolata ragazzi bene o male le regole sono queste ovviamente non voglio fare i tutorial non ne faccio più però per darvi un'idea del gioco se vi pioppe c'era meno è questa qui è tutta una corsa al punteggio cercando di prendere più cubetti possibili e sabotare e minare le azioni degli altri giocatori vista la componentistica viste le miniature che ci sono dentro visto i tile di gioco visto lo stile l'arte sulle carte insomma anche sui tabellini di gioco belli spese e tutto quanto le miniature sono veramente spettacolari visto il tema che si va a trattare perché alla fin fine si tratta di andare dentro un dungeon ma non per ammazzare i mostri come nel 90% dei giochi ma per studiarli e tirarci fuori una tesi d'esame appunto per laurearsi a Rocca Civetta secondo me come tema è veramente geniale Kickstarter che ovviamente ha avuto uno sbotto di soldi di donatori di Baker e non vedevo l'ora che arrivasse la versione italiana a cura della Pendragon che ringrazio ancora una volta veramente di cuore se gli devo dare un voto a un gioco del genere geniale ed unico veramente unico nelle sue regole gli do assolutamente un 9 su 10 meritatissimo ragazzi è divertente da morire questo per tutte le appassionate di fantasy ma perché no ce le butto dungeon crawler e soprattutto fable ma anche un po' di magia all'Harry Potter non vi deve mancare assolutamente perché questo secondo me spiegate le regole magari più che spiegate fatta una partita ok per entrare un po' nell'ottica del gioco di dungeonology arrivate alla seconda secondo me è un gioco assolutamente per tutti ci potete far giocare anche dei bambini secondo me è veramente divertente poi il tema è accattivante e simpatico quindi 9 su 10 meritatissimo vi ricordo se volete ordinare i vostri giochi da tavola i vostri giochi di ruolo direttamente da Borgame Discount primo link in descrizione e lo vedete sempre in sovimpressione mentre ne parlo potete acquistare giochi di ruolo e giochi da tavola al miglior prezzo sul mercato e oltretutto vi danno la possibilità di pagare i vostri giochi a rate tutto il loro catalogo c'è la possibilità di pagarlo a rate quindi andateci a dare un'occhiata primo link in descrizione dove acquistarlo e poi tutti quanti i nostri social a seguire fatemi sapere cosa ne pensate ciao ragazzi alla prossima